a cui portavo Digrignando i denti stavo in fila nel partito a cui portavo circa duemila voti che subito si squagliarono in una fiera di parole e di richieste Il mio aborto politico si consumò così Perché? Commento Gli aborti esisteranno fino a quando la tua inevoluzione lo permetterà e sarà il modo con cui vivrai l'aborto che cambierà il tuo sentire